L'unica di fatto, situazione imbarazzante, la riunione è stata convocata su nostra richiesta, il governo ha chiesto ancora una dilazione perché non sanno come rispondere sulle motivazioni per cui chiedono continui rinvii. Abbiamo chiesto di sapere se questi fossero legati a ragioni tecniche, formali, di trovare una scusa, almeno, che giustificasse perché in Italia il Parlamento aspetta qualche evento ispiegabile, che noi immaginiamo sia il teatrino tra Draghi e Conte, per continuare i suoi lavori e nel frattempo soggiorna nei corridoi. È stata rinviata alle 13.30, il Presidente Fico si è assunto la responsabilità di dire che pretenderà in quella sede di avere certezza sull'andamento dei lavori. Aspettiamo. Voi lamentate il fatto che questo incontro sia tra due persone che non fanno parte del Parlamento e che voi siete stati spodestati? No, ma ognuno si incontra a casa sua e fa quello che vuole, nessuno impedisce alle persone di incontrarsi. Non si capisce perché il Parlamento italiano, il luogo di rappresentanza del popolo italiano, non possa lavorare in attesa che due persone, peraltro non elette dal popolo, si debbano incontrare a parte per ragionare i temi politici. I problemi tra Draghi e Conte sono problemi loro, i problemi degli italiani vanno trattati in Parlamento, invece immobilizzare il Parlamento in attesa dei capricci dell'uno o dell'altro non va bene. Avete parlato solo di questo? Adesso sì, dura 10 minuti. Ok, grazie. Grazie.